Pago il peso del mio cognome. La procura pesarese nel luogo dove gestisce molteplici altre attività per eseguire il mandato emesso dal GIP del Tribunale di Pesaro per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e dalla bancarotta fraudolenta e documentale. Questa mattina nell'ufficio del procuratore capo Cristina Tedeschini presso il Tribunale di Pesaro assieme alla PM Maria Letizia Fucci e dal maggiore dei carabinieri Patrizia Gentile, capitana Oiori comandante del nucleo radiomobile e anche il comandante e il suo vice della stazione di Borgo Santa Maria Sono stati resi noti gli aspetti salienti di questa indagine partita nel 2016 da un semplice controllo stradale durante il quale Dante Mannolo fu fermato da una pattuglia a Borgo Santa Maria a bordo della sua potente Maserati nel territorio di competenza della stazione e da lì poi il fiuto investigativo dei militari ha fatto tutto il resto. È risultato, secondo la procura, avere stretti legami ma non una vera e propria affiliazione con il clan dell'Andrangheta ma di fatto gestiva in prima persona ingenti somme di denaro in contanti che versava in diversi conti correnti e con i quali apriva attività legate alla grande distribuzione ma che poi chiudeva sparendo dalla circolazione. Secondo le evidenze in mano agli inquirenti fatte di innumerevoli intercettazioni ambientali, pedinamenti e controlli documentali fatti prima nel barese e poi nel pesarese Mannolo assieme ad altre quattro persone denunciate per gli stessi reati attraverso la società Eurodistribuzione SRL intestata ad una prestanome sempre di origini calabresi come anche gli altri tre operanti avrebbe creato un buco da oltre 500.000 euro con acquisti di merce sia da ditte locali che nazionali come la Ferrero, la Caffè Borbone, la Mionetto e dopo i primi pagamenti avrebbe chiuso baracche e burattini facendo perdere le sue tracce e spedendo in Calabria la merce acquistata e pagata solo in minima parte. Ignare di questo giochino apri e chiude le oltre 80 ditte raggirate. Da qui il fallimento della Eurodistribuzione oltre che fallito in proprio lo stesso Mannolo come socio occulto della ditta e vero dominus della truffa. Fallimento in proprio però per il quale è stato fatto il reclamo e sul quale ora la Commissione si è riservata di decidere a marzo prossimo. Questa indagine dimostra una risposta a 360 gradi delle istituzioni che allo Stato mi dà grande soddisfazione.